benvenuti al 37esimo automoto retro e decimo automoto racing qui dal lingotto fiere di torino dal 31 gennaio al 3 febbraio e vorrei esordire con una frase un po banale il tempo passa e aggiungo però per fortuna perché altrimenti non si potrebbero festeggiare dei compleanni così eh sì 70 anni di abarth il marchio fondato da carl abarth nel marzo del 49 spegne 70 candeline e qui ad automoto retro 2019 nello stand magistralmente allestito ci possiamo immergere un'atmosfera che affonda appunto il pungiglione dello scorpione nel meglio del motorsport che ha vissuto in epoche diverse e in modi diversi come potete vedere io partirei proprio da qui dalle abarth per tutti come mi hanno consigliato cioè dalle auto di derivazione 500 600 qui c'è una bellissima esposizione delle stradali con la 595 e poi 695 ss tutte macchine in condizioni a me sembra veramente impeccabili questo esemplare è del 66 e poi un assetto corsa del 67 e sempre 695 ss vorrei però sbirciare anzi facciamolo 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 guardiamo sotto la gonna non siamo in fascia protetta quindi basta così e poi si continua con auto un pochino più piccanti queste su base punto 600 850 tc corsa del 63 poi del 67 e infine una 1000 tcr del 69 questa è spaziale questa è veramente spaziale i colori li riconoscete perché vengono utilizzati oggi molto spesso dalle abarth di produzione è comunque un elogio un tributo a quello che queste auto sono state e ancora rappresentano targa oro ovviamente qui guardiamo sotto la gonna abbiamo anche la luce a favore non posso no non si tocca ci spostiamo poi in un'altra zona queste erano le haber per tutti anche se le quotazioni di queste ultime in particolare non sono davvero per tutti ci spostiamo in una zona particolare perché questi sono sport prototipi questa ad esempio è una delle quattro sp3000 costruite un'auto veramente fantastica e qui abbiamo un altro sport prototipo un sp2000 del 70 e concluderei questa visita allo stand abarth con le gran turismo forse il segmento il periodo il lo stile delle competizioni che più mi affascina e questa che vedete è una è una sinca 2000 un'auto non frappata signori questa correva davvero in questa livrea nero opaca e qui ci sono anche le testimonianze che la vedono alla targa forio nel 64 poi qui a fianco abbiamo una splendida ot 1300 del 70 ve la faccio vedere nella sua interezza guardate bellissime le prese d'aria qui frontali macchine meravigliose e chiudo con un pezzo unico devo fare qualche passo venite quello stand abarth perché merita veramente questo è un prototipo signori un pezzo unico non potevo chiudere in maniera diversa un 850 presentato anzi creato proprio per la presentazione al salone di torino qui nel 1959 come non concludere un tributo ai 70 anni di abarth con un'auto creata per il salone di torino spettacolare tanti tanti auguri abarth ma i compleanni non finiscono qui e sempre a proposito di anniversari importanti sono 50 le meravigliose candeline che si spengono qui sì lo so perfettamente che auto bianchi è del 1955 che poi è passata in pirelli fiat fino al 1995 però però mi riferivo ai 50 anni di due modelli uno forse più famoso dell'altro ma è proprio da quello meno celebre che voglio partire questa e ve la faccio vedere frontale è la a111 non dico che il padre di questa di quest'auto sia dante giacosa ma è stato uno degli attori perché fiat cercavano sostituta per la 130 correva l'anno circa 1967 68 e venne creato il progetto a123 poi la 130 venne sostituita dalla 124 ma il progetto a123 non venne cancellato perché per sostituire la primula venne proprio utilizzato questo progetto ed ecco a voi la a11 ovviamente asta per auto bianchi un'auto rara si fa fatica a trovare degli esemplari quella che vedete è una seconda serie una macchina che forse non vale diciamo il costo del restauro nel senso che trovarne una così conservata può valere 3 4 mila euro però in questa macchina ci sono dei contenuti molto interessanti che derivano in parte anche dal 124 come il motore il 1400 da 70 cavalli trasversale anteriore per la trazione anteriore quindi c'è stato qualche cambiamento e poi bellissime finiture una qualità che la 128 che in parte a livello di componentistica deriverà dalla 111 finiture che insomma appunto la 128 non ha quest'auto nel suo piccolo è molto molto interessante come chiaramente interessantissima è un'altra auto bianchi forse la più famosa di tutte ma voglio andare per gradi a partire con la prima perché sono ben otto le serie di 112 questa è una prima serie un 69 ecco perché anche per la 112 si festeggiano i 50 anni guardatela un bijou è come uscita dal concessionario targa torino tra l'altro questa è la prima serie prodotta dal 69 al 73 motore 903 cc 44 cavalli e cambio 4 marce corto corto cortissimi rapporti poi qui abbiamo anche una quinta serie questa è dell'80 ma la quinta serie è stata prodotta dal 79 all'82 si riconosce da varie finiture in plastica soprattutto qui nei fari e questa abarth che è forse l'auto che tutti gli appassionati sognano di guidare almeno una volta è una terza serie 70 cavalli prestazioni interessanti 160 orari di velocità massima e questo fu il primo modello a montare il freno a depressione il servo freno scusate a depressione valutazione di queste auto beh prima che me le chiedete nei commenti vi dico che per una primissima serie così vi possono chiedere anche 10.000 euro e non sarebbero soldi spesi male mentre da 10.000 euro forse si iniziano a trovare delle abarth così qui allo stand poi chiaramente ci sono anche altre auto bianchi che non festeggiano compleanni ma sono altrettanto importanti come questa meravigliosa bianchina e ovviamente una y10 rossa bellissima e 4x4 chiudendo poi con un'altra auto bianchi sì sì è un auto bianchi ve lo confermo perché è scritto lì questi prototipi correvano tanto tempo fa a monza e auto bianchi perché perché il motore a solla opportunamente elaborato e adattato però è proprio quello della bianchina panoramica quindi insomma una rappresentanza di un periodo di un momento in cui veramente bastava poco per divertirsi e auto bianchi ce lo testimonia quel poco per divertirsi che forse purtroppo manca oggi nel 2019 non